Primo spunto di riflessione, l'importanza del cash flow nella gestione strategica aziendale. Nello specifico il cash flow viene utilizzato come metodo di valutazione aziendale con l'attualizzazione dei flussi di cassa in situazioni di M&A piuttosto che di valutazione di crescita da parte del mercato finanziario. Secondo spunto di riflessione, lo status del pagamento in Italia dove si evidenzia una discresia tra i pagamenti concessi e l'effettivo rilascio dei pagamenti circa 25 giorni nel comparto B2B. Sulla base di questi spunti di riflessione, American Express vuole condividere una soluzione B2B dove essenzialmente va a inserire il rapporto tra debitore e creditore. Il vantaggio di questa soluzione è che la linea di credito che viene rilasciata non parla sulla centrale rischi e i benefici, quindi la direzione di pagamento possono essere condivisi tra debitore e creditore stesso.